Per me la cucina è un atto d'amore, credo che sia un lavoro veramente difficile, soprattutto farlo quando si è donne, perché si sacrifica la famiglia, sono molte ore di lavoro, però credo che sia il mestiere più bello al mondo. Io amo tantissimo cucinare il pesce, quindi sono tanti gli altri, sicuramente gli altri passi, perché riesco a fare tante cose, a sbizzare molto di più, a fare assaggiare molte più cose. Continuare a crescere, a evolversi, a viaggiare, a cercare di fare esperienze, a vedere cose, assaggiare nuove cose, nuovi ingredienti, mettersele prima dentro e poi portarle in un piatto.